Ciao a tutti e bentornati qui a un nuovo video su Eurotrack Simulator 2. Oggi andiamo con un altro viaggio per le consegne dell'evento in Svizzera. Questa volta riprendo di nuovo e provo a far non tolto la consegna che ho fatto una volta precedente dalla Croazia. Questa volta sono a Zagabria perché ho detto che mi scendiamo da fiume e vado su a Zagabria così magari non ho problemi con i carichi, magari sbaglio o poi fanno da una parte. E allora vado a prendere tutto il carico nel mentre vi ricordo di iscrivervi al canale così da aiutarmi a supportare il canale e di supportare anche me e raggiungere i miei iscritti che almeno il primo obiettivo è quello. Allora da qui la Zagabria devo andare in Svizzera il primo carico plastica usata e comunque non è due, sono io il preciso e poi gli automobili. Vendiamo con gli automobili. Mettiamoci al lavoro. Andiamo. Prendo il carico. Vendiamo con gli automobili. Voltare a destra. Voltare a sinistra. In acqua via. Tenirsi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Ho sbrogliato io. Ho sbrogliato il nuovo tasto. Benissimo. Quando ci meritaro su questo semifero mai? Non è... Venirsi a destra. no va che esagerata accelerata invece è una ventina di chilometri da prendere il carico e io ragionio più anche l'altro scocchietto tenersi a destra e poi uscire a destra uscire a destra ops dov'è uscire a destra? dov'è uscire a destra? uscire a destra tenersi a destra alla rotatoria prendere la prima uscita uscire adesso voltare a destra oh eccolo qui nel carico di auto siamo arrivati tutto è pronto possiamo partire un po' mi fa di scherzi per conto suo un po' mi fa di scherzi per conto suo e' con un bel carico di auto poi prendere la mano si ah non ho attaccato il moto andiamo ora si è fuori volta volta a sinistra un po' mi ha avvenuto alla rotocoria prendere la pezza uscita dai, ti muovi o no? 885 km questa volta la volta è un 700 km, ma comunque è un 480 km più strano, come imparano a prendere il carico quindi è all'incirca sera in verità ha fatto ghiaggia alla cazza di cane, non c'è più così tanto l'uomo andare a fare i viaggi, le varie città, non farne le nuove volte, perché non voglio non voglio andare a prendere non lo so non lo so Alla prossima. Sonia Peter Sonia Peter Sonia Peter Tra l'altra consente quanto è bello tranquillo che intanto maggior parte sarà autostrada Via di cruise control è a posto Tenersi a sinistra Grazie a tutti 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 Tenersi Grazie a tutti 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 Non vedo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti